Esplosione Nord striscia Gaza, un morto, Ansa, Gaza, 7 gennaio un palestinese è rimasto ucciso nel nord della striscia di Gaza in un'esplosione di natura. Ancora incerta, lo riferiscono fonti locali, secondo cui la vittima è stata identificata in Mohammed di Lunga N.A.D. 22 anni, non noto se militasse in alcuna organizzazione politica. Secondo le fonti al momento della deflagrazione non c'era nella zona alcuna activity militare israeliana.